Che sta facendo? No, no, niente, niente No, no, niente, niente Ragazzi un messaggino importante Mettete il cuoricino nei commenti a chiunque si iscriva al mio canale E mi raccomando Iscrivetevi anche nelle mie pagine Il nome sta spuntando qui Lo sto vedendo proprio qui Questo qua Questo che sta spuntando qua Lui è Henry Sarà nei prossimi video Mi raccomando Ok Henry tutto bene Tutto no, gioia mia Chi è nuovo del canale Basta, chi è nuovo del canale Si doveva iscrivere al canale di Vittorio Loffreddo Che è sempre spunta qui Che la dovete cercare su YouTube E anche su Instagram Ovviamente Lui è iscrivito al mio canale È uno YouTuber veramente molto bravo Vi invito a guardare i suoi video E farlo morire da ride E se volete Se volete E non dite che sto copriando Vittorio Loffreddo Perché non è vero Ehm Se volete Attivite del genere Ehm Andate su A vedere tutti i miei video Tutti che voi farei Scriverai anche vostra lonna Io Henry Vi salutiamo e Ciao 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 Ciao